I dipendenti del bar Piazza Grande del centro commerciale di Policoro hanno iniziato mercoledì uno sciopero d'oltranza bloccando un'entrata del centro commerciale per protestare contro la decisione dell'azienda Culture Giovani Metapontum che gestisce il servizio ristoro del centro di licenziarli. I suoi dipendenti mercoledì mattina hanno quindi bloccato l'entrata cercando di convincere l'azienda a fare marcia indietro. Dopo che tutte le proteste hanno dichiarato gli operai avanzati alla direzione del centro commerciale finalizzati al rilancio dell'attività non sono state condivise, l'azienda Culture Giovani Metapontum ha deciso di chiudere l'attività e ha licenziato con 15 giorni di piavviso i dipendenti. Abbiamo sofferto, continuano gli operai, per mesi sacrificando la nostra dignità di lavoratori al fine di salvaguardare i nostri posti di lavoro, ma tutto ciò non è bastato. Invitiamo, concludono, tutti i dipendenti degli attività presenti nel centro commerciale ad unirsi alla protesta e chiediamo ai clienti, scusandoci con loro per i disagi creati, di solidarizzare con noi, affinché le nostre ragioni vengano ascoltate e i nostri posti di lavoro ripristinati. Una protesta che continuerà ad oltranza dunque finché i dipendenti non otterranno risposte alle loro richieste.